Ma più che passione, io definirei un collegamento al passato, nel senso che nascendo nel 73, entrando negli anni 80, all'età piccola, e vedendo praticamente l'inizio dei belli anni 80, cioè dall'85 in poi, da dove c'è stata la grande rivoluzione francese, e l'arrivo in Italia degli alieni, posso dire che... Allora, i miei anni 80, diciamo che io, vabbè, io sono torinese, quindi gli anni 80 li ho vissuti a Torino, in una città operaia, quindi diciamo che Torino guardava Milano, Torino guardava le altre città come moda anche, con l'arrivo anche dei paninari è arrivato anche a Torino, però a Torino era diverso, nel senso che era molto più difficile procurarsi dei capi firmati, negli anni 80 era tutto diverso, cioè all'arrivo dei paninari, ecco, appunto io, un simbolo per me degli anni 80 è la musica pop, e soprattutto la moda, la moda, gli anni 80 erano i paninari, i paninari erano visti come essere fighi, a Milano è nato in un altro modo il paninari, a Torino era solamente moda, cioè se non avevi le timbre, non avevi i capi firmati, ed era già difficile averli, oltretutto quando li compravi te li rubavano fuori dal negozio, a me è anche successo, eri escluso, cioè dovevi essere firmato dalla testa ai piedi, allora eri una persona, eri accettato, questa era diciamo la cosa degli anni 80, cioè dovevi essere strafirmato, e andare in giro con la moto figa, tutto lampadato, proprio un sistema completamente diverso. Sappiamo l'altro persone per gli anni 80, pareci un po' dei tuoi anni 80, i miei anni 80, allora, i miei anni 80, allora, ero ancora piccolo, diciamo, negli anni 80, nel 1987, 86, ho incominciato ad ascoltare la musica, la musica alla radio, la musica alla discoteca, cioè la musica alla discoteca ai tempi era la musica pop, cioè andavi a ballare Duran Duran, andavi a ballare gli Spandau, andavi a ballare gli Europe, cioè era diverso, cioè non c'era la dance, quella arrivata dopo, e quindi per me negli anni 80 inizia il periodo, l'avvicinarsi al club, alle discoteche, club neanche, erano discoteche ai tempi, discoteche, e poi la moda, moda, i paninari, i motorini, devastazione, tv, cazzo, la cosa assurda degli anni 80 era, non è come adesso, vabbè, mi vedo Ritorno al Futuro, me lo vedo, no, dovevi aspettare che andasse su Italia 1, su Italia 1 e aspettavo, perché Italia 1 era il canale dei giovani, dei ragazzi ai tempi, e quindi i film fighi, diciamo, quando ho visto la prima volta Ritorno al Futuro, mica non vedo l'ora che esca il 2, 3, 4 anni dopo, non è come adesso che appena finisce già l'altro è fatto, capisci, era un sistema diverso, e gli anni 80 io ti posso dire, stereo, portatile, gira dischi, vabbè, quelli sono ancora attuali, era un altro mondo, era un altro sistema, era con gli amici, ciao, ci vediamo domani, va bene, ciao, fino al giorno dopo, tu non sapevi un cazzo più di nessuno, cioè, entravi a casa tua e c'era a casa tua, la tua camera, il tuo stereo, tu stavi così a guardare lo stereo, e facevi, Wild Boys, Scannifer, New White, Wild Boys, qualche rivista, Wild Boys, Scannifer, adesso invece minchia, sono collegato a tutto il mondo, scrivo con gli amici tutto il giorno, una volta non era così, e questo è quello che posso dirvi un po' dei miei anni 80, io comunque arrivo da una famiglia medio miliardaria, e quindi, no, scherzo, però mi hanno aiutato i miei genitori, nel senso, le scarpe firmate me le compravano loro, cioè, rompevo i codi, mi ricordo ancora la prima volta, ero riuscito a mettere via 110.000 lire, 110.000 lire vi posso dire che sono, facciamo un paragone di adesso, 110.000 lire sono veramente tante, metà anni 80, 86, con quei soldi lì, fai anche 1985, erano veramente tanti soldi, io con 110.000 lire sono uscito di casa e sono tornato con una felpa, dell'americanino, i miei mi hanno guardato come un alieno, perché ai tempi con 110.000 lire compravi 100 armadi, io con 100.000 lire, perché non erano ancora pronti loro, io, seguendo la moda, avevo già visto com'era, no? Cioè, dovevi avere il capo firmato di comprarlo, con 110.000 lire, ma di quel periodo, sinceramente, non è che mi manca molto, nel senso, è bello riuscire a trovare adesso delle cose degli anni 80, perché c'è stato un periodo di tempo, dalla fine degli anni 80, all'arrivo appunto della tecnologia che abbiamo adesso, che è possibile trovare tutto, anche su iTunes, non c'erano i film prima, c'era solo la musica, e riesci a trovare anche su YouTube delle cose che per un tot di anni tu non hai più visto. Cioè, adesso è diverso, nel senso, se esce una cosa figa, la vedrai il prossimo anno, tra due anni, te la puoi rivedere, te la porterai sempre dietro. Mentre noi abbiamo avuto questo spazio-tempo dove non c'è stato più un cazzo, niente, e siamo passati dagli anni 80 al nulla, siamo cresciuti, vabbè, io parlo di quelli della mia età, sono cresciuti, poi di colpo del 2007, 2008 è arrivato di nuovo tutto. Allora vai, compra Star Wars, perché non trovavi i vestiti, non trovavi i pupazzetti, cioè se in America era un conto, ma non c'era tutta questa roba, è arrivata tutta dopo, e allora uno che rivede e dice che può toccare con mano quel periodo lì, cosa fa? Non ti compri i pupazzi di Star Wars? Mica, mi riempio la casa subito. Perché ti sono mancati? Perché non c'erano? Ecco perché io tendo a comprarmi le cose che ai tempi non c'erano. Tipo, vado a New York, mi compro subito il costume dell'uomo ragno assolutamente da appendere nell'armadio, e lì fa la muffa, ma dovevo prenderlo, è una cosa che non sono riuscito a prendere in quel periodo, perché in quel periodo non c'era, capito? Allora, rispondo alla terza domanda, la musica degli anni 80 ha influenzato moltissimo, moltissimo perché praticamente da lì è iniziato tutto per me, magari un ragazzino che di queste cose non le conosce neanche, magari le conosce se uno è informato e appassionato, però la musica dei tempi era tipo, se usciva il disco, facciamo un esempio, sempre sui Duran Duran, Wall Boys, quel disco, una volta che è uscito, è durato un anno, due, se lo ballavano, lo ballavano, lo straballavano, però non era come adesso che ti massacrano da tutte le parti con questa canzone, nei video, invece i tempi era diverso, il video, quando lo passava, non so neanche se c'era in tv, non so se c'era in tv, te lo passava il programma di DJ, come si chiama, non lo ricordo neanche, vabbè, lo passavano loro, quei programmi lì, quelli di musica, quei pochi che c'erano, e quindi era diverso, ritorno al discorso di prima, adesso è tutto subito, quando vuoi, una volta dovevi aspettare il video di Duran Duran, quando capitava in televisione, me lo guardavo, Festival Bar, c'era Festival Bar, stavo tutta la sera lì a guardarmi un programma televisivo per vedere magari la mia canzone preferita, tipo, non so, People Found Ibiza di Sandy Martin, capisci? Era tutto diverso, era tutto diverso, definisci con una parola gli anni Ottanta. Scarpa in pelle Vabbè, allora, i miei idoli dell'epoca, vabbè, Michael Jackson ovviamente, Christopher Reeve, attore di Superman, e poi, vabbè, mettiamo nel mondo di George Lucas, Star Wars, ovvio, perché sono i soliti, che conoscete anche voi, Indiana Jones, Giovanotti, ai tempi c'era Giovanotti, conoscito, che ha spaccato il mondo e ha dilagnato proprio negli anni Ottanta, Michael G. Fox, tutta roba comunque collegata alla televisione, ecco. Sei un collezionista di film gadget di quel periodo, Star Wars, Return of the Future, ruro, bottone, eccetera. Dicci la verità? La verità! La verità è una vera malattia, quella di collezionare oggetti anni Ottanta. Ripeto, c'è stato un periodo dove questa roba usciva il film di Star Wars, non è come adesso, che prima ancora che esce il film ci sono già tutti i gadget, i pupazzi, spadalaser, i baffi, dove ci sono i peli di Leila anche, tra un po' puoi trovare. Una volta non c'era niente. Capitava il film, dovevi comprare la rivista e vedere i programmi la prossima settimana e guardare cosa c'era ogni giorno. Star Wars! Magari l'avevi già visto, ma quando era la prima volta che ti capitava in televisione così? Cioè, che cazzo è questa roba? E allora mi sono appassionato nel tempo, però è rimasto il film, il film in cassetta, poi, adesso trovi qualsiasi cosa. Ovvio che dici, cazzo, ho aspettato tutti questi anni, figa, me li compro e ti compri tutti i gadget di Star Wars, Spider-Man, Iron Man, e così. Non saprei come definirla questa roba, è nostalgia, ecco. Tu e Paolo, noi siete grandi estimatori anche dei paninari, della moda del periodo. Cosa significa per te essere paninaro? Allora, paninaro a Torino, Paolo di Milano, io sono di Torino, a quel periodo vivevo a Torino. Essere paninaro era cuccare, essere figo. Cioè, nel senso, se andavi in giro e avevi, che cazzo ne so, le scarpe non di marca, le ragazze non ti cagavano. Magari non erano neanche firmate loro, ma per essere figo, c'è unice, cazzo, guarda, non è che bello quel ragazzo, no, che figo quel ragazzo, c'ha il Montclair. Cioè, era così, dovevi avere l'attrezzatura. E quindi il mondo dei paninari è quello, a Torino era la moda il paninaro, poi a Milano invece era un'altra. Ci lasciamo con un disco a tua scelta degli anni Ottanta e naturalmente fai un saluto a tuo modo, agli amici di www.glianniottanta.it Un disco veramente che mi piace da morire, questo qua degli anni Ottanta. Gli Adventus con Broken Land. Sentite. Sua. Però invece vi lascio con un altro disco invece. Voi pensavate, ma... Pictures of You dei Cure 1989 1989 Ciao, ma proprio ce la vediamo nel 2070 Se ci arriviamo, io non ci arrivo. Ciao a tutti! Bene, allora salutiamo quelli di www.glianniottanta.it Questo è... Thank you! Alloraiosi! Ciao a tutti!